Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulle raccorde autostradali di Avellino fino a sabato 30 giugno per lavori attivo le restringimento di carreggiata tra le uscite sull'Ofro e Montoro Nord in direzione Fisciano. Sulla strada statale 7 Appia fino alle ore 18 del 22 maggio per lavori carreggiata ridotta in corrispondenza del Cavalcavia Macchia dei Meruli tra le località Salsa Erpina e Volturare Erpina. Sulla strada statale 7 Quater Domiziana per lavori carreggiata ridotta fino alle 17 di mercoledì 30 maggio tra le località Borgo Centore e Baia Domizia in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Salerno fino alle ore 6 di lunedì 18 giugno per lavori attivo il restringimento di carreggiata tra le uscite San Leonardo e Mariconda in direzione Fratte. Per queste ed altre informazioni vi rimando al nostro sito. L'indirizzo è www.muoversi.regione.campania.it Vi ricordo anche che potete scaricare la nostra app, quella di Muoversi in Campania, per rimanere sempre aggiornati in merito alle notizie sulla viabilità e del trasporto pubblico locale in Campania. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore.